Il ritiro dei kit della nuova raccolta differenziata a Nocera Superiore è stato prorogato fino al 30 settembre a causa dell'inatteso afflusso da parte dei cittadini a ridosso della prima scadenza prevista lo scorso 15 settembre. Nel corso del periodo di proroga, anche per agevolare l'accesso e limitare al minimo i disagi, saranno attivati due dispositivi self-service per il ritiro immediato delle buste mediante tessera sanitaria, uno dei quali verrà localizzato all'ingresso del comune di Nocera Superiore. Abbiamo previsto una proroga fino a fine mese, al 30 settembre, perché, come spesso capita, i nostri concittadini si sono tutti accalcati presso i magazzini per il ritiro delle buste alla scadenza che avevamo dato del 15 settembre. Dunque, per agevolare l'introduzione dei codici a barre del nuovo sistema, abbiamo fatto un'ulteriore proroga, l'unica proroga, al 30 settembre. Quindi invitiamo i nostri concittadini a recarsi presso i magazzini per il ritiro del kit, che sarà l'unico kit utilizzabile per la raccolta differenziata, potendo restituire le vecchie buste al magazzino. E poi, altra cosa, ci saranno due macchinette, dalle quali sarà possibile effettuare il ritiro. Una sarà collocata, proprio in questi giorni, presso la sede comunale, per cui il cittadino potrà ritirare direttamente, presso queste macchinette, le buste. Abbiamo già raggiunto un buon livello di differenziata. Dobbiamo migliorare la qualità della differenziata. Se andiamo a migliorare la qualità della differenziata, siamo in grado poi di applicare delle premialità. Quindi il cittadino che crede di essere più intelligente o più furbo degli altri sappia che laddove lui non conferisce regolarmente i rifiuti non ci consente di abbattere la quota di differenziata. Quindi una migliore differenziata consente di qualificare già il rifiuto, questo ci consente di risparmiare perché a conferimento e poi a smaltimento il costo è ovviamente ridotto. Grazie a tutti.